Ciao, sono Bruno di Segema. Oggi parliamo di un modello di fotocellula che è talmente piccolo da essere quasi invisibile. Queste fotocellule possono essere montate logicamente su pancelli abbattenti o scorrevoli, ma nascono per essere utilizzate in motorizzazioni su portoni basculanti, portoni sezionali, porte automatiche, in tutti quei contesti sostanzialmente dove c'è poco spazio e quindi le dimensioni della fotocellula hanno un'importanza rilevante. Immaginate infatti un garage che è lungo tanto quanto un'autovettura, installare le fotocellule a volte è molto difficile perché magari il paraurti posteriore della macchina è oscura e quindi la porta non si riesce a chiudere. Con queste fotocellule che sono veramente molto molto piccole si riesce a superare questo problema. Allora le fotocellule sono queste, si chiamano P27 della Vexo. P27 perché in pratica la loro larghezza è solamente 27 mm. Come vedete sono veramente molto contenute, la loro altezza totale è 70 mm e la loro profondità di lato è 16 mm. Nonostante questo le fotocellule possono essere alimentate a 12 o 24 volt in corrente continua o alternata e quindi sono praticamente universali rispetto all'alimentazione. Il contatto può essere collegato all'ingresso fotocellula tradizionale internazionale oppure se richiesto può essere collegato in ingresso alle sicurezze 8K attraverso un Deep Switch che rende l'uscita da NC a 8K. Le fotocellule sono autoallineanti, hanno questa protuberanza che vedete qui, è la lente per direzionare l'infrarosso tra il trasmettitore e il ricevitore. Hanno una portata di 15 metri, quindi molto importante per delle porte basculanti, per questo in alcune situazioni possono essere applicate anche ai cancelli automatici dove c'è poco spazio. In ultimo nella confezione troverete anche il cacciavite per aprire e chiudere i coperchi davanti alle cover e due gommette che vanno messe dietro alla fotocellula per far sì che non penetri umidità all'interno e che quindi la fotocellula rimanga staglia e pulita per tutta la durata della solidà. Questo è un prodotto professional che puoi trovare sul nostro sito shopsegemo.it oppure se stai nella zona di Roma puoi venire in via 4 Sant'Antonio 48 a Marino, siamo sull'ampia dopo l'aeroporto di Cialpino. Ciao, al prossimo video!